Le quattro banchette sono qui! Decine i risparmiatori davanti al Tribunale di Arezzo, 2500 invece quelli che hanno richiesto di costituirsi parte civile per tramite di associazioni di consumatori o comitati organizzati da singoli avvocati. Ha preso così avvio l'udienza preliminare davanti al gruppo Giampiero Borraccia del maxiprocesso per la bancarotta di Banca Etruria nei confronti di 20 amministratori e dirigenti della banca accusati di aver distratto oltre 150 milioni di euro dalle casse dell'Istituto Bancario Aretino. Ci siamo costituiti per il momento per 160 azionisti e obbligazionisti subordinati di Banca Etruria perché la bancarotta fraudolenta per distrazione, cioè per sottrazione di somme sostanzialmente dalle casse della banca, ha recato l'azzeramento del patrimonio della banca e quindi ha recato l'azzeramento delle azioni in prima battuta e in seconda battuta anche l'azzeramento delle obbligazioni subordinate. Non è possibile concepire che il patrimonio di tanta gente, pensionati, le loro liquidazioni, le loro riserve che avevano accumulato dopo tanti anni di sacrifici vengano depauperate in questo modo. Noi vogliamo giustizia perché queste persone ci hanno derubato dei nostri risparmi. Un'udienza breve durata circa un'ora è a porte chiuse che si è conclusa con il rinvio al 12 ottobre e la calendarizzazione di sette udienze che si svolgeranno tra ottobre 2017 e gennaio 2018. La prossima udienza avrà proprio ad oggetto le eccezioni e le repliche alle eccezioni in ordine alla legittività e ammissibilità delle costituzioni di parte civile. Anche il comune di Arezzo, come annunciato questa mattina dal sindaco Alessandro Ghinelli, chiederà di costituirsi parte civile. Il danno che la città ha subito per il crack di Banca Etruria è un danno elevato, elevatissimo. Siamo rimasti sulla gogna mediatica per più di un anno e mezzo, questa città ha avuto un trattamento che non si merita e purtroppo questo è figlio di una situazione che evidentemente la magistratura deve valutare. Il pool dei PM che indaga guidati dal procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi inoltre ha richiesto di far confluire in un unico procedimento anche l'altro filone, la banca Rottabis. La richiesta del pool dei procuratori è stata quella di rinviare anche per consentire l'eventuale riunione con gli altri due filoni di procedimento per fatti connessi che attualmente sono in fase di indagini preliminari. Grazie.